E a margine della conferenza stampa il Governatore Maroni è tornato sui temi affrontati oggi con il Presidente della Commissione Europea Barroso. Sentiamo dunque l'intervista. Allora Presidente, di che cosa avete parlato con Barroso oggi? L'ho invitato a partecipare come Commissione all'evento che la Regione Lombardia organizza il 7 di luglio a Monza per lanciare la nostra iniziativa su Expo, la promozione dei contenuti di Expo. e l'ho ringraziato per l'adesione che la Commissione Europea ha fatto a Expo. Gli ho detto che vogliamo arrivare assieme alla Commissione alla definizione di un documento strategico per Expo che contenga anche un punto che mi sta particolarmente a cuore, cioè il contrasto alla contraffazione alimentare, che è un danno per la salute ed è un danno per le imprese italiane e lombarde che vale circa 60 miliardi di euro. Sarebbe una cosa bellissima e molto utile se durante l'Expo i principali paesi arrivassero a sottoscrivere la dichiarazione di Milano che impegna tutti i paesi a contrastare la contraffazione alimentare, danno economico e danno per la salute. Grazie. Grazie.